mario si si è vero guarda vedi quell'area la grigia grigio chiaro livello dell'acqua avrebbe dovuto essere fin lì invece mancherà circa mezzo metro d'acqua questo è l'ambro siamo in aprile manca mezzo metro d'acqua questo significa che nel suolo anche nel suolo circostante quindi questa fine dell'agricoltura mancano circa 15 20 centimetri di acqua nel suolo il suolo è così secco la siccità ma quanto è forte questa siccità è forte nella misura che mancano circa 15 20 cm d'acqua per aprile in questo momento capito purtroppo capito è purtroppo